Sono state inaugurate questa mattina a Pordenone le nuove casette dell'acqua. Si tratta di quattro distributori di acqua potabile proveniente dalla rete idrica comunale dove i cittadini potranno da oggi riempire le proprie bottiglie di acqua naturale o gassata al prezzo di 4 centesimi di euro per ogni litro. Le case dell'acqua sono collegate all'acquedotto pubblico, quindi ricevono acqua molto controllata e a chilometri zero. Poi all'interno della macchina ci sono dei gruppi filtranti che trattengono eventuali colori, sapori o odori come il cloro che per legge deve essere presente in quantità variabile negli acquedotti. Poi ci sono all'interno dei sistemi che tengono indenne l'impianto dal punto di vista batteriologico con delle lampade od ultravioletti e poi l'acqua esce gradevolmente fresca, liscia o gassata in varie quantità dal mezzo litro al litro e mezzo. Per una settimana l'acqua scorrerà gratuita così la gente la potrà provare e poi presso degli esercenti convenzionati si acquisterà una tesserina dal valore di 6 euro con 3 euro di cauzione che darà diritto a 150 litri d'acqua. All'inaugurazione erano presenti anche i ragazzi di alcune scuole della città. L'assessore comunale all'ambiente Nicola Conficoni. Attive da questa mattina quattro nuove casette dell'acqua a Pordenone sono collocate in via Galilei, in via Aprilia, in largo Cervignano, in via Pirandello, sono collegate al civico acquedotto, erogano quindi acqua sicura controllata al prezzo di 4 centesimi al litro sia liscia che gassata. Un'opportunità in più per i pordenonesi di bere l'acqua del sindaco e di risparmiare. È un'iniziativa volta a promuovere stili di vita sostenibili perché approvisionandosi dalle casette dell'acqua è possibile limitare il consumo delle bottiglie di plastica e quindi le emissioni climalteranti dovute alla produzione, al trasporto e anche al riuso e al recupero degli imballaggi. L'invito a tutti i pordenonesi è di testare questi impianti in modo tale da poter contribuire con il loro comportamento virtuoso a salvaguardare l'ambiente. Grazie a tutti.